Arriva Avon Tomorrow, ve ne parlo dopo la sigla. Ben rientrate ragazze su Vanilla Chic, bentornate. Come avete potuto sentire dalla presigla, questo è un video interamente dedicato ad Avon Tomorrow. Un profumo che è presente sul catalogo Avon dal 2005, infatti è stato lanciato nel 2005 e ha come naso profumiere il grande, grandissimo Oliver Crespo. È il mio naso profumiere preferito, io lo giudico un genio. Assolutamente un naso molto all'avanguardia per quanto riguarda le fragranze e nonostante questo sia un profumo del 2005, è sempre molto attuale. Per prima cosa vi faccio vedere la scatola, molto bella, questo oro rosa, davvero molto molto elegante che nasconde all'interno una boccetta altrettanto bella e che richiama per certi versi anche la scatola esterna. Questa è la boccetta di Avon Tomorrow, davvero una bottiglia molto bella, una bottiglia molto armoniosa che davvero è una gioia per gli occhi, ma insomma questo profumo ha davvero tantissimo da raccontare. Io spero di riuscire ad esprimere con le mie parole quello che mi ha trasmesso questo profumo. Allora vi vado prima a leggere la scheda di questo profumo e poi ne parliamo insieme. Avon Tomorrow, come vi dicevo, è stato lanciato nel 2005 e il naso di questa fragranza è Olivier Cresp. Parliamo di un orientale floreale con una base ambrata, davvero un profumo molto particolare. Le note di testa sono Paciuli, Pepe, Lampone, Pesca e Taggete. Le note di cuore sono Violetta e Fiore d'arancio. Le note di base sono Sandalo, Legno di Rosa Brasiliano, Muschio e Ambra. Allora, inizio col dirvi che è un profumo maestoso, è un profumo regale, è un profumo che è adatto per una donna matura, insomma, è un profumo molto elegante, quindi adatto per una donna fatta, per una donna che vuole assolutamente fare la differenza. Quindi non è un profumo davvero da prendere così tanto per, insomma, è un profumo che è adatto per le migliori occasioni. È un profumo che è sensuale. In apertura troviamo il Paciuli, che è una nota molto forte, molto predominante. La nota del Paciuli, sia insieme ad altre note, sia presa da sola, è una nota molto tosta. Questa nota di Paciuli, che è spezzata in maniera assolutamente gentile, in maniera morbida, in maniera assolutamente dolce, dalla pesca. Quindi abbiamo Paciuli e pesca, che hanno questo testa a testa, assolutamente perfetto. È molto buono come profumo. Io adesso lo spruzzo un po' nel tappo, perché ho un altro profumo oggi, quindi non voglio rischiare di farmi venire il mal di testa. Allora, come vi dicevo, è un testa a testa tra il Paciuli e la pesca, ma non solo. Nella testa troviamo anche il pepe, che gli dà quel tocco frizzantino. Poi abbiamo, insomma, il taggette, che è una pianta albacea con un fiorellino, che va sui toni dell'arancione, praticamente, ma non solo. Sono vari colori. E poi abbiamo il lampone. Il lampone, che è sposato con la pesca, gli dà quella nota fruttata. Quindi questo profumo si gioca quasi tutto, quasi tutto, in testa. Quindi ha una testa molto, ha le note di testa molto, molto predominanti, che quando si spruzza praticamente ti invadono. Ecco. Nel cuore abbiamo un cuore molto gentile, perché abbiamo la violetta e abbiamo il fiore d'arancio. Quindi abbiamo la violetta, che è una violetta delicata, una violetta incantata. E io, sapete quanto io adoro la violetta. E poi abbiamo il fiore d'arancio, che è un fiore gentilissimo, un fiore che ti fa pensare alle spose, ti fa pensare a uno dei giorni più belli della tua vita, che è il giorno del matrimonio. Quindi è un cuore molto gentile, che si gioca tutto tra violetta e fiore d'arancio. Ma la vera scoperta, insomma, la vera rivoluzione che c'è in questo profumo è sicuramente nella base. Perché troviamo una base legnosa, una base ambrata. Io quando penso all'ambra penso a qualcosa di mistico, qualcosa di molto prezioso. Questa è la sensazione che mi dà l'ambra, la nota anche dell'ambra. Quindi l'ambra che lo rende molto molto morbido. Questa unione tra il sandalo e il legno di rosa brasiliano è assolutamente perfetta. In questo Oliver Cresp è stato davvero molto all'avanguardia, ha avuto quell'intuizione giusta di associare il sandalo con il legno di rosa brasiliano per creare una base assolutamente legnosa e poi addolcirlo, dargli un tocco di un velo, ecco un velo ambrato proprio con l'ambra e poi con quel muschio bianco che va sempre a dare quel sentore per certi versi di pulito. Ecco, questo è quello che troviamo in questa base. È un profumo che ha davvero tantissimo da dare, tantissimo da dire, da esprimere. Profumo che a mio avviso è tenace, è sensuale. Avon Tomorrow secondo me ha una marcia in più rispetto agli altri profumi Avon. Io ho tantissimi profumi Avon, però personalmente Avon Tomorrow è davvero diventato uno dei miei preferiti. Credo che sia un profumo davvero che è fuori dagli schemi. Un profumo che troviamo ancora oggi nei cataloghi Avon e il prezzo oscilla dai 19 ai 22 euro. Però, ad essere onesti, è un profumo che davvero vale molto di più. Ho acquistato questo profumo perché ho letto innanzitutto le note olfattive. E sapete che quando leggo nelle note olfattive la nota della violetta, assolutamente quella nota mi convince a comprare quel profumo. Non ha una violetta molto forte, molto persistente, una violetta che non viene fuori, anche se insomma è collocata nel cuore di questo profumo. Una violetta molto discreta, una violetta molto elegante, una violetta che mi fa pensare alla donna romantica. Perché, insomma, la violetta per me è il fiore che associo al romanticismo. Non so perché, insomma, insieme alla rosa, trovo che la rosa e la violetta siano dei fiori particolarmente romantici. Detto questo, come vi dicevo, insomma, ho acquistato questo profumo perché pensavo che, non avendolo provato, pensavo che la violetta si sentisse, insomma, in modo abbastanza evidente. Non so perché, insomma, non è sempre così, infatti non è così. Quello che si sente in questo profumo è, senz'altro, il paciuli e la pesca. Ma anche il lampone si fa sentire, insomma, un profumo davvero molto, molto buono che è particolarmente indicato per il periodo invernale. Le note che ha sono note abbastanza importanti, quindi collocarlo nella stagione estiva, secondo me, non è proprio la sua stagione. Insomma, io penso che il periodo invernale sia quello più adatto a questo profumo. Nonostante ci sia la pesca all'interno, perché la pesca è un frutto che viene fuori nel periodo che va da maggio ad agosto. Quindi la nota di pesca ci fa pensare all'estate, ci fa pensare alla bella stagione. Però non dimentichiamo che questo profumo è, insomma, che in questo profumo è presente il paciuli. Paciuli che è una nota molto, molto tosta, una nota che a volte, il più delle volte, troviamo anche nei profumi maschili, perché è davvero molto, molto forte come nota olfattiva. Abbiamo queste note fruttate che in apertura danno quella sensazione di ariosità, ma sono spezzati dal paciuli, che lo rendono forte, lo rendono sensuale, lo rendono molto, molto accattivante, intrigante, seducente, e anche, sì, anche molto seducente, perché ha un fascino assolutamente sottile. Ecco, è un profumo che si presenta in maniera molto leggera, ma che poi tira fuori un fascino, tira fuori una sua energia, si fa sentire man mano sempre di più, e, ehm, devo dire che davvero ti rimane spiazzata. Ecco perché io vi ho detto, è per una donna che vuole fare la differenza. Chi indossa Avon Tomorrow assolutamente non passa inosservata. Allora, questa è la boccetta, davvero molto bella, che, ripeto, ha come naso profumiere Oliver Cresp, e che io, insomma, adoro. Io adoro questo naso profumiere. Questo è Avon Tomorrow. Io spero di esservi stata utile, ragazze. Se avete la possibilità, provate Avon Tomorrow, perché è assolutamente meraviglioso. E, davvero, insomma, non lo lascerete più, perché vi farà davvero felici. Io, insomma, sono contentissima di averlo preso, tanto che, insomma, l'ho già usato, e lo userò ancora. E, insomma, è uno dei profumi che sicuramente ricomprerei, insomma, assolutamente. Bene, questo è quanto. Io vi ringrazio. Colgo l'occasione per augurare a tutte, 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 buon Natale, perché oggi è 23 dicembre, per cui domani è la vigilia di Natale. Io spero che queste feste vi portino tante cose belle. Vi mando un bacio. Grazie a tutte, tutti, tutti i miei iscritti, maschietti, femminucce, grazie a tutti, tutti quelli che davvero mi scrivono tantissime cose belle in direct su Instagram. Grazie a tutti. Un bacione, augurissimi. e noi ci rivediamo presto. Fatemi sapere giù se avete provato Avon Tomorrow e come vi ci siete trovate. Io vi mando un grande abbraccio. Fate le brave, perché a fare la cattiva ci sono io e noi se vi va. E ci vediamo la prossima volta. Un bacio da Vanilla Chic. Un bacio da Vanilla Chic.